Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Vi faccio questo video velocissimo per annunciarvi che stiamo iniziando un nuovo progetto che porteremo in live sul canale di Twitch Che trovate sempre linkato in descrizione, ma poi video che verranno comunque sempre anche trasportati su questo canale Inizieremo io, mia moglie, Rally, il nostro amico Pippo e altri amici che si vorranno unire Magari anche qualcuno di voi in futuro poi si potrebbe vedere Inizieremo a giocare live a giochi di ruolo che come vedete ne abbiamo a parte miniature di Guerre Stellari Ne abbiamo veramente un sacco qui dietro e li vorremmo portare tutti quanti in live Ci faremo la live direttamente sul canale di Twitch e poi dopo trasporteremo il video su Youtube Di tutti quanti i giochi che vedete qui dietro ci faremo almeno un'avventura, una giocata singola Poi se qualcuno ci dovesse piacere di più, un'intera campagna Comunque la cosa più importante è che sempre riuscendoci nei tempi cercheremo di fare un episodio Ovvero una live a settimana Se poi non ce la dovessimo fare, tanto ve lo comunicherò Per essere più sicuri, visto che a volte i social non li legge nessuno Oppure magari qualcuno si è perso semplicemente la notifica Quando la sera andremo in live a fare il proseguo di un'avventura o una nuova giocata Comunque andremo in live con una giocata di ruolo sul canale di Twitch Io farò sempre un video breve come questo che il pomeriggio stesso ve lo comunicherà Quindi magari quando vedrete uscire questo video saprete sempre che la sera stessa Non due o tre giorni dopo, la sera stessa ci sarà il video A parte questa volta che la live non sarà stasera ma domani sera Quindi domani sera ricordatevi che faremo la prima live e giocheremo a Deadlands E poi vedete che abbiamo tantissimi giochi dietro Perché mi piacerebbe portarvi Sine Requie Ovviamente con le varie ambientazioni L'ultima torcia e l'ultima bomba per non parlare poi di cyberpunk E qua dietro abbiamo il gioco di Labyrinth Blades in the Dark Warhammer Fantasy Roleplay Il manuale base del gioco di Starfinder Che è un'altra cosa che mi interessa da morire E poi tutta quanta la saga di Alien Che sta per uscire in italiano Weird Edizioni Quindi aspetto di portarvelo direttamente in italiano Il bellissimo Brancalonia per D&D Quinta Edizioni Insomma come vedete Lumenera e Dark Master Abbiamo tantissimi giochi di ruolo Che vi porteremo direttamente in live E abbiamo ideato un sistema di punti Con cui voi semplicemente guardando le nostre live Guadagnerete dei punti che sono punti fagiolo Chiamate così perché non c'ho tanta inventiva Guadagnerete questi fagioli che sono punti Semplicemente guardando la live completamente gratuito E li potrete spendere per avere effetti in gioco Che ne so spendi mille punti per dare un bonus di più o una alla prova Oppure spendi nei 10.000 per far apparire un NPC Che andrà a conto ai giocatori Quindi voi sarete parte integrante e attiva Non soltanto pubblico passivo A guardare e a contribuire alle nostre giocate Ripeto la prima live non sarà stasera Ma domani sera sul canale Twitch che trovate in descrizione E poi quando faremo tutte le altre Farò sempre un video come questo che comunicherà che la sera stessa ci sarà la live Ragazzi vi aspettiamo a domani sera Ciao a tutti